A Cremona si torna a parlare di unioni civili, a rompere il silenzio e la diocesi che dal suo sito internet esorta i fedeli a pregare per i senatori che il prossimo 26 gennaio dovranno votare il disegno di legge Cirinna, che regolerà a livello di diritto civile le convivenze di fatto tra eterosessuali e omosessuali, aprendo anche per questi ultimi alle adozioni. A scrivere Don Giuseppe Nevi, direttore dell'ufficio diocesano di pastorale familiare, che invita ad aderire alla campagna online un'ora di guardia. Una battaglia condotta con due sole armi, la preghiera e l'adorazione eucaristica. Per intercedere presso il padre si legge nell'articolo affinché illumini il cuore e la mente di coloro che dovranno decidere sul futuro della nazione. E mentre la Chiesa si muove sul fronte politico a livello locale si nicchia. Il testo che istituisce il registro delle unioni civili dopo il passaggio in Commissione Trasparenza è fermo ai blocchi. Il 30 novembre scorso sono infatti scaduti i termini per presentare integrazioni ed osservazioni. Si attende dunque un nuovo passaggio in Consiglio Comunale, ma forse a questo punto tanto vale aspettare la decisione del Parlamento.